ciao amici facciamo insieme questi struffoli è la prima volta che li faccio qui ho preparato gli ingredienti 200 grammi di farina 2 uova lo zucchero 20 grammi 30 di burro poi un bicchierino di liquore all'anice la buccia grattugiata di un'arancia un pizzico di sale bene e poi per la farcitura ci vorrà il miele e le codette bene io l'impasto l'ho messo in planetaria però potete fare farlo tranquillamente a mano eccolo qua un impasto vedete molto molto preciso lo metto sul piano di lavoro lo lavoro leggermente poi lo faccio riposare 10 15 minuti bene questa ricetta l'ho presa da rita chef ho vistosi un pochino su internet ma presa poco sono tutte simili come è giusto perché gli struffoli la ricetta originale napoletana è quella poi c'è chi la personalizza un pochino però questa mi è piaciuta molto ok adesso allargo la sfoglia e taglio delle striscioline devono venire molto piccolini gli struffoli e poi c'è chi chi fa direttamente i rotolini con le mani però questa mi sembra la cosa più più semplice da fare bene continuo a tagliare tutte le strisce e metto un po di farina per non farle attaccare perché l'impasto abbastanza morbido e poi ecco le arrotondo anche un pochino però volendo visto che c'è anche chi taglia direttamente poi in cottura si aggiustano ok vedete devono devono venire piccolini e non crescono perché non c'è il lievito però ecco se sono piccolini sono più carini anche la sfoglia quando la stendete non deve essere sottile insomma uno spessore giusto bene nel frattempo ho preparato dell'olio di semi dentro una padella e lo sto scaldando vedete io le strisce si le sto arrotondando un pochino le sto sfilando un pochino quindi se riuscite magari a fare le strisce più piccoline nemmeno serve io sinceramente la prima volta che li faccio e li ho mangiati sì ma non li avevo mai fatti ecco qua ok ho fatto scaldare l'olio e qui ho messo il miele dove poi andranno messi gli struffoli adesso friggiamo friggiamo li faccio e li mettiamo su una carta assorbente così mi piacerebbe ricevere dei commenti da qualche amica napoletana per dirmi se sto facendo bene io sono romana però gli struffoli mi piacciono molto vedete quando abbiamo finito di friggere una volta si sono asciugati dall'olio li mettiamo dentro la padella dove abbiamo sciolto il miele e giriamo facciamo assorbire bene il miele giriamo per un pochino fino a che non vediamo più il miele sotto il miele deve essere proprio assorbito che carini che sono vero buoni anche li ho già assaggiati bene giriamo per benino e poi ho preparato i canditi io soltanto adesso arancio e cedro e so che a napoli ci mettono i canditi di zucca ma non li ho trovati sinceramente quindi metto soltanto questi canditi di arancia e cedro ho dimenticato di dirvi che vedete devono essere appena dorati e quindi cuociono abbastanza in fretta non li facciamo diventare troppo scuri e questo colore così va bene ok ho preparato un piatto un altro piccolino l'ho già fatto io farò una ciambella però potete tranquillamente metterli a piramide oppure dentro dei contenitori di carta piccolini si presentano molto bene potete sbizzarrirvi come volete io ho messo un bicchiere al centro farò questa ciambella poi li presso un pochino li presso con mezzo limone mi aiuto con mezzo limone li stringo vedete perché poi una volta che si sono raffreddati questi durano anche durano tanto anche un mese in modo che poi si può tagliare la ciambella io non lo sapevo li mangiavo uno per uno all'inizio quando invece no bisogna tagliare tipo una torta no ok ci siamo io adesso ho messo un piatto però volendo ci voleva un piattino quelli di portata di carta anche ok poi sopra ci metto le codette adesso mi trovo queste però poi ho aggiunto anche quelle color argento confettini color argento altrimenti codette colorate così bene come vedete molto semplice farli sono veramente squisiti spero che questa ricetta veloce vi sia piaciuta ciao a tutti ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao